Dopo questo piccolo stacco pubblicitario, signori e signori, siamo tornati allo Zadina Maggi Show, puntata numero 215 e la nostra rinnovata maga di fama mondiale, Bionska, si è posizionata sulla strumentatura scusate c'è una scimmia che sta in varia dal palco, è un oggetto di scena, non fateci caso ed è pronto, vai a prendere la scimmia per favore ed è pronto, tutto è pronto, le luci si spengono, Bionska freme, il pubblico è in tensione ... e via ! ... però commetterei in fare questo bene .. Chius! ... noi oh no 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 sono l'uomo dai i E' sparita, signori e signori, e adesso in un puffo il gine telecamera, Pietro, eccola qua, la maga di rinomata fama mondiale tedesca, Biosca, un applauso, un applauso, bravissimo, vediamo il prossimo appuntamento con lo Zardina Magic Show.